Benvenuti nella guida su SINAL della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo cos'è SINAL e come accedervi. Questa banca dati offre diverse modalità di ricerca. La ricerca avanzata, la ricerca tramite SINAL EDIX e quella combinata. Per fare ricerche più specifiche vedremo quali limiti applicare. Analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter scaricare il full text degli articoli. Infine daremo un'occhiata ai servizi personalizzati. Iniziamo vedendo cos'è SINAL. SINAL è l'acronimo di Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. È la banca dati bibliografica più importante per infermieristica, ma è utile anche a tutte le discipline correlate alla medicina. Sono presenti in SINAL ben 17 discipline. Gli enti che curano la banca dati sono l'American Nurses Association e la National League for Nursing, entrambi statunitensi. Accediamo alla banca dati in virtù dell'apponamento sottoscritto dalla biblioteca con EBSCO, in particolare alla versione SINAL with full text. Questa versione contiene quasi 3 milioni di citazioni bibliografiche, con una copertura dal 1981. Vengono indicizzate più di 3.000 riviste di tutto il mondo. In SINAL sono presenti, oltre agli articoli, anche abstract di libri, dissertazioni di tesi, atti di convegni, materiale audiovisivo, ecc. Direi che il 90% della banca dati comunque è costituito da articoli. SINAL è indispensabile per infermieristica, ma anche per rossetricia, fisioterapia, igiene dentale, ecc.